Sono 419 i bambini di provincia di Sondrio e Alto Lario fra i 5 e gli 11 anni per i quali è stata già prenotata la prima dose di vaccino anti-covid-19. Il dato di ATS della Montagna è il primo disponibile dopo l'apertura delle prenotazioni avvenuta domenica e fa riferimento agli slot vaccinali dal 16 al 22 dicembre, che sono quelli al momento aperti sul territorio. Il riferimento per la provincia di Sondrio è su una popolazione target pari a 11.500 bambini tra i 5 anni compiuti e gli 11. Complessivamente, sul territorio di ATS della Montagna, che comprende provincia di Sondrio, Alto Lario e Val Camonica, la popolazione target è di 17.745. Per la Val Camonica, le prenotazioni per la prima dose nei bambini sono fino ad ora 222. In totale, la TS ha dunque ricevuto 641 adesioni nei primi due giorni di apertura della possibilità di aderire al piano vaccinale per i più piccoli. La prenotazione per i bambini può essere effettuata attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it nella sezione prima e seconda dose, cliccando sulla categoria cittadini con età compresa fra i 5 e 11 anni. La somministrazione avverrà, come sempre, presso i centri vaccinali del territorio della TS Montagna, in corsie preferenziali dedicate ai bambini, secondo date e orari disponibili indicati sulla piattaforma. Per non creare sovrapposizioni con gli orali scolastici, le sedute vaccinali sono state fissate in orari pomeridiani e nei fine settimana. Il vaccino, previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni, è come Irnaty nella formulazione specifica approvata da AIFA. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di tre settimane, 21 giorni dalla prima. La copertura vaccinale al 10 dicembre va dal 94% degli over 80 all'81% della fascia 12-17 anni. Intanto, gli ultimi dati comunicati da TS della Montagna parlano di 153 nuovi casi gestiti in provincia di Sondrio tra venerdì e domenica scorsi, un deceduto e 76 guariti.